Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo tornati su Formula 1 2015 Allora ragazzi, c'è stato un piccolo problema, le due gare che ho fatto le ho perse tutte e due, le prime due Stavo dicendo ragazzi, allora c'è stato un piccolo... vai vai, passa, passa, passa C'è stato un piccolo problema in cui il computer non so cosa ho avuto e l'ho dovuto formattare Così ho perso tutti i dati che avevo fatto, quindi dopo che ho formattato ho perso davvero tutto Ho perso anche i cosi, i salvataggi di FIFA della carriera, perché l'avevo finita però a perdere così una carriera Ho perso tutto e ora comunque il computer funziona bene Quindi se ci sono problemi nella registrazione cercherò di sistemarli nei prossimi video Poi questo video lo vedrete a largo, lo vedrete di ritardo rispetto a quando mi è successa la cosa Perché l'ho voluto... che cosa devi fare? Che l'ho voluto subito registrare Ah... mi sa che non vale come giro Comunque, devo andare a modificare qualche impostazione sulla macchina perché non mi sta girando bene Vediamo intanto quanto abbiamo fatto Ma mi sa che abbia fatto un giro di merda Ok, perfetto Ora torno ai box, mi distraio la macchina e ci vediamo direttamente al giro di qualifica Vediamo quanto faccio 98, 29, 30, 31, 32, si Comunque, vado a modificare un attimo la macchina e ci vediamo al giro di qualifica Ok, giro di prova, vai Mettiamo grassa Perfetto Vai, dobbiamo cercare di fare un buon giro Vai, 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 vai con l'elettone Dov'è? Non capisco dove è Hamilton Ah, che curva di merda Infatti mi ha superato Larghissimi Stiamo un po' sporcando Infatti ci ha superato Vai Ok, ce l'abbiamo vicino Quindi stiamo facendo Un giro quasi perfetto Olè Gli sto bruciando le gomme Vabbè, qua vanno più veloci Ok, la Mercedes è più veloce L'ho tagliato L'ho tagliato Provo da tagliare, vediamo Tanto qua mi recupera Che qua non è nulla L'ultima due curva non li riesco a fare Questa è l'altra Questa è qua Ok No, ho dovuto frenare Proprio alla fine mi ha superato Terzi Mi ha superato proprio alla fine Sennò ce l'avevo davanti Cioè dietro Direi che può ritenersi soddisfatta la Mercedes E vabbè Due Mercedes e due Ferrari Giusto così, dai Benvenuti a Melbourne Va bene, va bene Mi sa che piove Quindi vediamo cosa fare Oggi puoi vincere Vai Grazie Vai, 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 vai Qua cercano di prendermi la scia Vai sull'interno No, stavolta Hamilton Non lo dobbiamo lasciare scappare No, 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 no No, no, stavolta no Devo superarlo qua Se no scappa Bruciamo le gomme Ah Troppo lungo E scappa Hamilton Che palle Hamilton No, vabbè ragazzi Per vedere Hamilton Ho sbagliato curva Ok Non lo dobbiamo lasciare scappare Ma già se ne sta andando Già due secondi mi ha dato almeno Almeno Ok Va bene Non ne frega niente Vediamo se qui lo riusciamo a riprendere Ma mi sembra davvero difficile Scusate se sto un po' zitto Però Difficile Esco male dalle curve Vai L'importante è che non se ne va troppo distante Perché Magari Quando c'è poi il camion in box Un po' lo riesco a recuperare Non lo so Giro più veloce di Hamilton Ok Qua l'abbiamo raggiunta Attenzione Possiamo prendere la scia All'esterno Dai 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 Sverniciato raga Siamo primi Falla bene questa Ok Siamo primi per ora Oddio 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 Siamo primi Cerchiamo ora di guidare normali Voglio bruciare tutte le gomme subito Al settimo giro è box Devo abbassare il carburante Ora lo abbassiamo che c'è il rettilineo Perfetto Carburante No 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 Come lo abbassà Vabbè però A lui non succede niente Voglio vedere che ha fatto Ok Io prendo l'interno Rimango all'interno Mi ha sbattuto Andiamo Mi ha toccato lì Poi vado avanti Lo riprendo Perché a lui non succede nulla però Non è giusto Ok Prendiamo di nuovo il rettilineo Perfetto Va bene Va bene Standard Lui si butta sull'interno Ah ma Non le riesco a fare a voler Oh l'ho fatta L'ho appena fatta a velocità Non ci credo Ok Ora con calma Dobbiamo cercare di mantenere Questa prima posizione Fino all'entrata in box Sarà difficile Perché Hamilton Spinge molto Secondo me Ha sbagliato molto In quelle prime due curve E quindi siamo riusciti A rimontarlo Solo per questo Perché lui comunque È molto più veloce Ora Può aprire l'arrettone No ancora no Ecco qua lo può aprire No Non l'ho ancora aperto Ah va bene Allora dal prossimo giro Intanto Rosberg Prova su Hamilton Però non lo supera No No Ok Uh Giochiamocela con calma Perché è difficile Nel primo settore Comunque il gioco è meglio Rispetto a Hamilton Ecco ragazzi Sto provando l'attacco Porca troia Di nuovo davanti Di nuovo davanti No Mamma mia Che cosa ho fatto All'esterno Sono riuscito a prenderglielo Uh Abbiamo mantenuto Stta prima posizione E ora è troppo indietro Per usare L'alettone Contro di me Ok Con calma Con calma Si è chiuso Riapri sto coso Ok Ai Ah te ne affano Curo va Fai attenzione Evita rischi sui sorpassi O dovremo fare i conti Con una penalità Ah no Lui che mi sbatte Che io devo fare la curva No Guarda Guarda Come si fa Sicuramente ci avrai Già fatto caso Ok Ora Ora attacca Hamilton Ora mi attacca Hamilton Eccolo Grassa Teniamo l'interno Attenzione Rosberg Invece prova su Hamilton Io li chiudo Chi è davanti Hamilton È riuscito A tenere La seconda posizione Ora qui Sono a rischio io Ora sono No 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 Ok Però ora va bene Ragazzi Le gomme sono Troppo Troppo usurate E qua Qua dietro Continuano a spingere Non capisco Come fanno Ad avere sempre Le gomme buone Io Non lo capisco Va bene Tagliamo Tanto non mi dice Niente Se taglio lì Quindi Ora lo faccio Più spesso Comunque Andiamo di uscire qua Non slittare Perfetto Ok No ho sbagliato Mamma mia Sono riuscito A tenerla Qua non gira più Non tiene più Ecco Prendo l'interno Perfetto Non è riuscito Da passare Perché mi sono messo Tipo in mezzo No Quindi A sinistra Non poteva passare A destra Doveva fare tutto il giro Quindi perdeva tempo E non c'è arrivato Raga Questo giro Sarà pericolosissimo Perché Io non riesco Oh Non riesco a girare Che ne sta difficile Come adesso Sono stato sempre In prima posizione Ogni tanto Scler Oh Ok No Troppo lungo No va bene Va bene Va bene Va bene ragazzi E sta E sta Oh mamma mia No 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 Non me ne sono accorto All'interno Oh Cosa è successo Cosa è successo Cosa è successo Hamilton fuori Piano 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 Allora Non ho Non ho capito Cosa è successo Dopo devo andermi A rivedere il replay Oh Troppo largo No Che fa Rosberg Raga Sto combinando Un casino In sta gara Vai 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 Dobbiamo ripartire Prima Dobbiamo ripartire Prima Voilà Ah ok Sto combinando Un casino Ma con Hamilton Non ho capito Rosberg Diciamo che In parte È colpa mia Perché Io stavo andando Quello era Il massimo Che potevo raggiungere Quindi Non è che Ho fatto Un'inflazione Perché Alonso È così lento Va bene Grazie Alonso Cerchiamo Non bruciarle Subito Facciamo un giro pulito Non mi interessa Se è veloce L'importante È che sia Un giro pulito Ok Poi possiamo andare così Non riusciremo a tenerci A questi giri per molto Siamo solo un giro Sopra il target Passa la miscela 2 Al più presto Sì sì Faccio questo giro E passo A me che qualcuno Non annesca Davanti a me Allora No La continuerò A usare la miscela 3 Però non penso Che qualcuno Esca davanti a me Perché quelli là Davanti a me C'erano tutti davanti No Qua Dico Va bene Qua tagliamo Là si può tagliare Quando si vuole Allora No no È abbastanza vicino Lo riesco A riprendere il primo Poi Destra E poi sinistra Di nuovo destra Ok Uno Con calma C'è ancora Ancora Non si sono riscaldate Sì Che sono calde Ok Standard E stanno uscendo Prima di me Ah vero Raikkonen Bottas Siamo davanti a Raikkonen Bottas Ha le gomme fresche Cioè Fredde Quindi dovrei riuscire A prenderlo Però non mi fa attivare Il DRS Perché Perché C'è Vai prendiamogli Di nuovo La scia Piano 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 Non dobbiamo Distaccarci Da bottas Ora che non c'è Ora che non c'è Né Raikkonen Né Hamilton Né Rosberg Non dobbiamo Distaccarci Da bottas Nel rettiline Comunque siamo Più veloce Quello possiamo Superare All'interno A destra Nooo Scusa Scusa Bottas Scusa Bottas L'ho portato troppo Sull'esterno Troppo aggressivo Questo sorpasso Vabbè Di Di quanti casino Ho fatto Fino ad ora Questo è il minimo Anzi Che non l'ho colpito Ho combinato Troppi casino Staggare Vabbè Poi che ho fatto uscire I miei diretti avversari Quindi E non mi hanno detto Neanche niente Perché di solito Quando succedono gli incidenti Ti danno O penalità Ok grazie Sto dicendo O ti danno penalità O ti danno comunque Secondi Che si aggiungono In più Al Al tempo gara E Però non mi hanno dato niente Quindi significa che Non ho fatto niente Di male Tento Raikkonen Raikkonen non ci prova No Io devo tenermi distaccato Da Bottas E Raikkonen Dovrebbe superarlo Bottas No No Non lo vuole superare Ragazzi Si stanno avvicinando Davvero tanto E io ho paura Perché in due Possono fare male Come prima Oh Subito Guardate Guardate E niente Bottas per ora È davanti Con due Con due rettilinei Riuscite a recuperarmi Vediamo se lo riesco A riprendere io Vai Qua lo dovrei riprendere Come prima Stacchiamo dopo Vai E c'è Raikkonen indietro Raikkonen è difficilissimo Sta situazione Troppo largo Qua non lo riprendo Già se n'è andato Più di un secondo Do me No Dopo 60 giri Mi ho detto di non tagliare più Come fanno a superarmi Di nuovo col problema Che non c'è Di nuovo col problema Che non accelera Raga di nuovo No A sto giro no A sto giro no Guardate Visto che prima Era rimasto in sesto Era in settima No A sto giro no Eh Ogni tanto si bug E non accelera più Va bene Comunque Bottas Se n'è andato Devo vedere se riesco a fare Almeno due giri buoni Che con due giri buoni Lo riesco a riprendere Vai Andiamo su grassa Vediamo se lo riusciamo a riprendere Un secondo e tre Se riesco ad avvicinarmi qui E arrivo a meno di un secondo Vediamo se lo riesco a prendere Ah Troppo distante Ora c'è il doppiato da superare Piano Ok Un po' ci siamo riavvicinati Però Non più di tanto Ragazzi Purtroppo Mi ha superato pure Raikon Però Non sono riuscito A mettervi il sorpasso Vediamo qui Se lo riusciamo a riprendere In scia Olè Mamma mia Che frenata questa Oh Che cacchio di frenata Ho fatto Ok Con calma Con calma Con calma Ok Bottas Non lo riesco più a recuperare Io dico Ma le gomme a Bottas Non si usurano No Qua apre l'alettone Sì Sì Teniti qua Ok Non può superarmi Vabbè Bottas è ormai imprendibile Però vabbè Non penso Sarà un diretto avversario Tu stai dietro Ragone Ok Ok Stiamo qua No Taglio Speriamo che non mi danno Una penalità 3 secondi Mamma mia In 3 giri 3 secondi Mi ha dato Sta andando davvero bene Bottas Però è strano Perché Sta andando troppo veloce Speriamo che fai l'incidente Col doppiato Che ne sai Battaglio Ok Siamo davanti a Raikkonen Voglio vedere se il doppiato Gli fa combinare Qualcuno No l'ho superato No Ancora no Ah Larghissimo Non stanno tenendo più le gomme Ok Purtroppo I primi due circuiti Non sono i miei preferiti Guardate Anzi Non li so proprio guidare Dai Il DRS Ce l'ha lui E io sono dietro di lui Ok Sei a un secondo Dalla vettura Dall'artic No Io non ci credo Non ci voglio credere Mi ha superato pure il Raikkonen Non mi fa attivare il DRS Perché Ci sono A meno di un secondo Attaccato a lui Ci sono Vai Poi loro non sbagliano Neanche una curva Ok Dai 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 Devo provare a forzare Qualche frenata Eh Se n'è andato pure lui In una curva Se n'è andato pure lui In una curva Ah E' andato pure il secondo posto Ragazzi Raikkonen è mezzo bloccato dal Dal doppiato Però mi sa che qua lo riesce a prendere Senza problemi Vediamo se lo riesce a superare Perderà qualcosa di secondi All'esterno Niente Senza problemi Eh Ciao Prima di entrare in curva Non vogliamo una penalità Le gomme non mi stanno più tenendo Ricciando gira circa 5 decimi Meno di te Ripeto 5 decimi Allora devo superare pure io Alonso Ai ai Che gara di merda però Ho buttato fuori Hamilton e Rosberg Però Raikkonen e Bottas Sono riuscito a superarmi E se ne sono scappati Quindi Alla fine arrivo terzo Così come ero partito Oddio Finito il carburante Non ci credo Non ci voglio credere Non ci voglio credere Non ci voglio credere Non ci voglio credere Ha detto 10% O il 10% Ci doveva arrivare No? Quelli dietro Mi stanno recuperando Subito No Non ci voglio credere Una curva Una curva No Arrivo quarto Sì ciao Va bene Ho finito il carburante Ne rendete conto? Palle Vediamo se riesco qua A fare qualcosa Niente Lui accelera meglio Almeno arriviamo Quarti O quinti Quarti Mamma mia Che gara di merda Che gara di merda Non ci voglio credere Ho detto 10% In un giro Ce lo potevo fare Così al primo posto Della classifica Provviso Ah vabbè Vedremo poi La prossima gara Ah vabbè Poi volevo vedere Hamilton Dov'era Vediamo la classifica Hamilton Allora Rosberg a 0 Hamilton A 0 Perfetto Allora Ragazzi Che dirvi Per questo episodio È tutto Io voglio vedere Voglio fare subito La seconda gara Però non penso Che la faccio oggi Noi ci vediamo Un prossimo episodio E ciao Ciao